Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi un caso assurdo. Non credo sia uno dei peggiori che io abbia trattato, ma quando leggevo le fonti di questo caso ero lì che dicevo Ma com'è possibile? Com'è possibile che questa donna faccia tutto questo indisturbata? Oggi parliamo della mamma peggiore d'America, ovvero Shelly Knotek. Ma andiamo con ordine. Questa storia inizia a Battleground, Washington. La città si trova a circa 12 miglia nord-est di Vancouver, vicino al confine di stato dell'Oregon. È il 1958 e Lara Stellings ha 18 anni e si è diplomata da poco alla Fort Vancouver High School. Per mantenersi all'università ha trovato un lavoro al bowling di Battleground, Washington, dove si occupa di vendere hamburger. La bellezza di Lara fa sì che lei non passi inosservata, ha splendidi occhi azzurri e soffici capelli ricci e biondi, spesso raccolti in una coda di cavallo. Quando ha conosciuto il proprietario del bowling, Les Watson, ha notato che anche lui è di bell'aspetto, spalle larghe, altezza da capogiro. Dice di avere 22 anni e che al liceo eccelleva nell'atletica leggera e nel football. Les inoltre è un giovane di successo che, oltre a gestire il bowling insieme a sua madre Anne, amministra anche tutte le case di riposo della zona. Ben presto tra Les e Lara scatta la scintilla, lui fa il primo passo e lei è molto lusingata dalle sue attenzioni. I due iniziano a frequentarsi, si fidanzano e nel 1960 si sposano con rito civile a Vancouver. Stranamente al matrimonio sono presenti soltanto i parenti di Lara, nonostante i genitori della ragazza fossero i primi, contrari alle nozze. Dei familiari di Les invece non c'è neanche l'ombra. I due in ogni caso si sposano, ma al termine della funzione, cioè al momento di firmare i documenti, Lara fa una scoperta. Les in realtà non ha 22 anni, quindi 4 in più della sua novella sposa, ma è più grande di lei di ben 10 anni. Tuttavia le sorprese per Lara non sono finite. Infatti la mattina dopo le nozze riceve una chiamata dalla California. A telefonare è l'ex moglie di Les, Sharon Todd Watson. La prima frase che pronuncia è Allora, quando vieni a prenderti questi dannati bambini? Lara non capisce di cosa stia parlando questa sconosciuta, ma intuisce che Les ha omesso non pochi dettagli sul suo passato. L'uomo non ha mai raccontato a Lara della promessa fatta alla sua ex moglie Sharon, quella di crescere in casa propria i figli nati dal loro matrimonio, ossia Chuck, Michelle, detta Shelly e Paul Watson. Dopo la sconcertante telefonata, Les spiega finalmente a Lara chi è Sharon e aggiunge che la donna non è in grado di prendersi cura dei bambini. Ha problemi con il consumo di alcol, è perennemente depressa e, per guadagnarsi da vivere, fa la passeggiatrice. Lara, neosposa giovane ma sensibile e responsabile, mette da parte le proprie aspettative sulla vita matrimoniale appena iniziata e decide che non può sottrarsi a questa situazione. Accetta di prendersi cura dei figli del suo attuale marito, in particolare di Michelle e Chuck, perché Paul, per motivi sconosciuti, rimane a vivere ancora con Sharon. Chuck è il più piccolo dei due, ha soltanto tre anni, mentre Michelle, detta Shelly, ne ha sei, ed è lei la vera protagonista di questo caso. Vi assicuro che dopo aver seguito questa vicenda penserete che Shelly è la figlia, la moglie, la mamma e l'amica che nessuno vorrebbe mai avere, ma continuiamo con la storia. Mentre la madre biologica dei bimbi si dimentica subito di loro, Lara, che ha assunto il ruolo di matrimia, ben presto si rende conto che il rapporto tra Shelly e Chuck è strano. Lui sta sempre in silenzio, è Shelly che parla per il fratello minore. Inoltre ama particolarmente dagli ordini e Chuck esegue qualsiasi richiesta, molto spaventato dalla sorella. Shelly, al contrario, non ha timore di esprimere la sua vera natura. Si sente sempre più a suo agio a casa di Les e Lara, alla quale ripete ogni giorno che la odia. Nonostante le tensioni, gli anni passano e i coniugi mettono al mondo due figli. Sharon, l'ex moglie di Les, sembra non essere mai esistita, ha continuato a essere assente, ma nella primavera del 1967 ricevono sue notizie. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles telefona a casa della coppia di Battleground, che sta accudendo Shelly e Chuck ormai da sette anni. Un detective dello omicidi spiega che Sharon è stata trovata senza vita, ammazzata nella stanza di un motel. Il medico legale ha bisogno che qualcuno identifichi il cadavere e soprattutto che qualcuno si prenda cura di Paul, il figlio più piccolo di Sharon. Les in realtà non vuole farsi carico del ragazzino perché sostiene che abbia problemi comportamentali accertati, ma Lara lo convince che è la cosa giusta da fare. Così la coppia si reca in California per identificare il corpo di Sharon e per recuperare Paul. La polizia e il coroner dicono ai coniugi che Sharon non aveva una fissa dimora, viveva per strada a Skid Row ed era sempre ubriaca. A quanto pare era stata picchiata a morte. Skid Row è un distretto della downtown di Los Angeles, un'area che contiene una delle più grandi popolazioni stabili di senza tetto negli Stati Uniti. Chi attraversa questa zona non deve stupirsi nel vedere un susseguirsi di scatole, di cartone e tende da campeggio allineate lungo i marciapiedi. Insomma, Skid Row non è sicuramente un posto in cui vivere tranquilli, neanche per un adulto e figuriamoci per un bambino. Paul, che aveva sempre vissuto con la mamma, forse ha anche assistito al suo violento pestaggio. Quando sceglie a prendere la notizia della morte di sua madre è ormai 13 anni. E la sua reazione è di totale disinteresse, non dice nulla e non farà mai domande sull'accaduto. Nel frattempo, nuovo arrivato, Paul crea non pochi problemi a Lara, proprio come aveva previsto Les. Il ragazzino non è capace di controllare gli impulsi di alcun tipo e non ha alcuna abilità sociale, non sa nemmeno come sedersi a tavola composto. Poverino, non è colpa sua se è cresciuto con una figura genitoriale sbandata, se nessuno gli ha insegnato nulla. Probabilmente Paul doveva procurarsi del cibo da solo e si arrangiava per strada come poteva. Infatti, il secondo giorno nella nuova casa, Lara lo sorprende in piedi sul bancone della cucina alla disperata ricerca di cibo. Paul apre tutti gli armadietti, afferra qualcosa e poi se lo butta alle spalle fino a quando non trova ciò che desidera mangiare. Lara, nonostante l'impegno, si rende conto che fa troppa fatica a tenere testa a tutti e tre i figli di Sharon e Les. Già a gestire Shelly le risulta difficile da anni. Ora l'arrivo di Paul ha complicato la situazione e alimenta lo stress. Mentre Les è assorbito dagli affari, lei è alle prese con una Shelly sempre più dispettosa e ostinata, con un Paul che Lara stessa definisce selvaggio e con un Chuck solitario che ancora non parla, ma piuttosto se ne sta chiuso nella sua stanza a piangere per ore. Lara lo sottolinea, prendersi cura di Paul e Chuck è difficile, ma è Shelly a creare i problemi maggiori. I genitori si impegnano per trasmettere benessere a tutti i figli, ogni weekend organizzano viaggi sulle coste dell'Oregon o di Washington durante l'estate e vanno in barca, mentre d'inverno li portano a sciare. Eppure Shelly ogni volta fa storie, si rifiuta di partire con Les e Lara e, quando non riesce a ottenere ciò che vuole, racconta delle bugie. Shelly ama mentire. Ad esempio, siccome odia fare i compiti e anche andare a scuola, puntualmente inventa che i fratelli più piccoli le hanno distrutto i quaderni o i libri. Quando questa bugia non regge più, allora Shelly si rifiuta di andare a scuola. Se Lara le chiede di lavare i piatti, Shelly si avvicina al lavandino e finge di lavarli. In realtà, sistema le stoviglie ancora sporche nei mobili. Come se non bastasse, è solita dare fuoco ad alcune cose presenti in casa e soprattutto ruba dai portafogli di Les e Lara. Col tempo, il comportamento di Shelly in realtà peggiora. Oltre a essere una ragazzina ingrata, si dimostra pure vendicativa. È chiaramente infastidita dalla presenza dei suoi fratelli, perché vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Chuck e Paul sono una scocciatura in quanto vogliono portarle via la scena. Ogni volta che Lara presta attenzione a loro e non a Shelly, quest'ultima si organizza per vendicarsi. I suoi non sono certo scherzi innocui, basti pensare che in un'occasione ha infilato dei pezzi di vetro nelle scarpe dei fratelli. Lara, sconvolta, si chiede chi mai farebbe una cosa del genere, ma presto ottiene una risposta. Anna, la nonna paterna dei bambini, ossia la madre di Les. Anna, come accennato, gestisce delle case di cura per anziani nella zona insieme al figlio Les. Lara, già travolta da una vita da mamma superattiva, inizia a lavorare per lei. Siccome Anna abita nei dintorni, quando Lara va al lavoro, può affidarle a Shelly. Anche quando la ragazzina esce da scuola, spesso prende l'autobus e va a casa della nonna, che si prende cura di lei. Mentre lavora in queste case di cura, a Lara capita di notare che Anna è una donna violenta, urla spesso contro le dipendenti, che tratta come schiave. Sua suocera è una persona fortemente abusante, spesso ordina alle collaboratrici di andare a casa sua a dare una sistemata, e loro sono costrette ad accettare. Se Anna reputa che le dipendenti sono poco rapide nello svolgere i compiti assegnati, e addirittura le afferra per i capelli o le prende a schiaffi. In un'occasione, Lara va da Anna per recuperare Shelly, e lì ritrova anche una ragazza impiegata in una delle case di riposo. Ha i capelli tutti bagnati. A quanto pare Anna le aveva infilato la testa nel water per poi tirare lo sciacquone più e più volte. Lara è scossa, mentre Shelly adora stare con la nonna. Quando Lara va a riprenderla, spesso subisce anche i riemproveri della suocera, perché i capelli di Shelly non sono ben lavati o ben pettinati. Lara, conoscendo il carattere aggressivo di Anna, evita di alimentare la discussione, fa finta di nulla, prende Shelly e la riporta a casa. Più no a quando, un pomeriggio, ritrova Shelly con i capelli vistosamente tagliati. Quando Lara chiede spiegazioni, Anna le risponde che si è presa cura della nipote, visto che lei, sua nuora, non è in grado di farlo. Shelly, dal canto suo, invece di prendersela con la nonna, è furiosa con Lara, le dà la colpa dell'accaduto, è successo perché lei non sa spazzolarle i capelli. Apro e chiudo una parentesi, a 13-14 anni i capelli io me li spazzolavo da sola. Ma andiamo avanti. Nel marzo del 1969, quando Shelly ha 15 anni, si reca dal consulente scolastico con aria di messa e gli racconta che suo padre la molesta. A quel punto la scuola organizza una visita ginecologica per assicurarsi che ciò che sostiene Shelly sia vero. Contemporaneamente si attivano le procedure per non farla tornare nell'ambiente dove viene molestata, contattando gli assistenti sociali. Lara, che è all'oscuro di tutto, si stranisce perché Shelly non è ancora rientrata a casa e chiama l'istituto. La scuola le risponde che la ragazza non può tornare perché c'è un'investigazione in corso. Lara si preoccupa, chiede spiegazioni e scopre che suo marito è accusato di molestie e di aver fatto violenza intima su Shelly. Quando anche Les viene messo al corrente della situazione, sembra che lo abbia colpito un fulmine. Quasi si sente male. È sconvolto. Non capisce perché sua figlia abbia inventato una storia così terribile. Lara intanto non si dà pace. È ormai sera quando entra in camera di Shelly per cercare qualcosa che possa chiarire la situazione. Magari la ragazza teneva un diario segreto? Al posto del diario, guardando sotto il letto, Lara trova diversi titoli di una rivista chiamata True Confessions. Si tratta di una magazine dove vengono pubblicate le confessioni inviate dalle lettrici, che spesso facevano riferimento a storie inventate e un po' piccanti. Una di queste ha un titolo molto particolare, ossia sono stata violentata da mio padre quando avevo 15 anni. Lara legge il contenuto e si rende conto che il racconto di Shelly e quello riportato dall'articolo coincidono. Lara si attiva per sistemare la situazione, prende la rivista, la porta a scuola per parlare con il consulente scolastico, spiegargli che Shelly ama un po' troppo inventare storie. È una bugiarda e lo è fin da bambina. Quando arriva però la situazione sembra già risolta. Il consulente le spiega che hanno effettuato un esame medico su Shelly e hanno scoperto che è ancora vergine e che soprattutto non si evidenzia alcun tipo di lesione che faccia pensare a un qualsivoglia abuso descritto dalla ragazzina. Dopo questo episodio Shelly viene chiaramente espulsa dalla scuola e a Lara viene consigliato di mandarla da uno psicologo. Lara e Les in realtà seguono il suggerimento ma le sedute si rivelano poco efficaci. Shelly neanche prende in considerazione l'idea che abbia bisogno d'aiuto. Mente per scelta, certo, ma non si ritiene colpevole. Lara e Les a questo punto capiscono una cosa a mio avviso molto importante. Nessuno può aiutare una persona in difficoltà se questa persona pensa di non aver bisogno di aiuto. Infatti Shelly non ammette mai di essersi inventata la storia delle violenze intime, anzi sembra felice perché con quello che ha combinato ha ottenuto ciò che voleva, attenzione su di sé. Lara e Les non sanno più come prenderla, quindi decidono di allontanarla da casa per un po' mandandola dai genitori di Lara che vivono a Hootsport, Washington. Shelly appena arriva si mostra subito intraprendente e vogliosa di aiutare e così si offre di sparecchiare e di lavare i piatti. Una volta sgomberata la tavola, al posto di lavare i piatti Shelly li butta nella spazzatura. In altre occasioni non li getta via ma li strofina con un panno. Insomma, di lavarli non se ne parla. D'improvviso poi Shelly scopre di avere una vocazione, adora i bambini anche se detestava i fratelli e vuole fare da babysitter per i figli dei vicini. È addirittura disposta a farlo gratis perché probabilmente le piace apparire come una ragazza benevola e premurosa. Ma, anche in questo caso, la recita di Shelly dura ben poco. Una sera i vicini le chiedono di badare ai loro figli. Perché vogliono uscire a cena da soli? La ragazza accetta ma quando i vicini rientrano scoprono che Shelly ha barricato i bambini nelle loro stanze spostando anche i mobili più pesanti e costringendoli ad andare a letto con i vestiti addosso. Conclusa questa fallimentare esperienza come babysitter, Shelly torna a mettere in giro accuse allarmanti ma sempre false. Stavolta racconta che è suo nonno a molestarla. A questo punto i genitori di Lara chiedono alla figlia di venire a riprendersi Shelly immediatamente. Non la vogliono più vedere neanche col binocolo. Lara immaginava un epilogo del genere. Aveva passato metà dell'estate a parlare al telefono con i genitori ascoltando tutti i guai che Shelly aveva causato. Nel frattempo cercava disperatamente un'altra scuola che avrebbe accettato la sua iscrizione. Shelly viene rifiutata da tanti istituti fino a che Lara riesce a iscriverla in una scuola cattolica dell'Oregon situata a circa 40 minuti a sud da Battleground, ossia dal posto in cui vivono. Lara in realtà sperava di trovare una scuola ancora più lontana visto che la ragazzina potrà stare fuori per tutto l'anno scolastico. Alloggerà nei dormitori della scuola insieme a tutti gli altri studenti e Lara e Lance andranno a prenderla ogni weekend. Shelly rimane in quella scuola per un anno ma poi le suore che la gestiscono decidono di rifiutarla per l'anno successivo a causa dei grossi problemi comportamentali che la ragazza ha manifestato. Shelly si svegliava spesso nel cuore della notte e iniziava a urlare senza motivo. Aveva rubato i compiti di un'altra studentessa per poi distruggerli. Aveva sottratto anche degli oggetti alle sue compagne e ricominciato a infilare i vetri rotti nelle scarpe degli altri studenti. Quando torna a Battleground, Shelly non si dimostra cambiata. Passa le giornate a dire a Lara che la odia con tutta se stessa e che vorrebbe vederla morta. Lara ormai non ne può più e risponde che neanche lei è un regalo venuto giù dal cielo. Ma soprattutto Lara è arrabbiata perché Lance nonostante tutto continua a trattare Shelly come fosse una principessina. Un giorno Lance contatta sua sorella Katie e le dice che Shelly ha bisogno di affetto e che a lui e a Lara serve davvero una mano. Katie per rendersi utile invita Shelly a stare da lei per qualche settimana. La ragazza in questa occasione racconta alla zia Katie che a Battleground soffre perché Lara la odia e la maltratta. È violenta, la picchia quando lei vorrebbe soltanto ricevere un po' di affetto. Katie credendo alle sue parole chiama Lara per dirle che sa tutto e che da ora in poi si sarebbe occupata lei di quella povera ragazzina. Non le avrebbe permesso di riprendersela tanto facilmente. Lara, dal canto suo, neanche si preoccupa di smentire. È felicissima, chissà quale santo ha voluto graziarla. Katie e suo marito, che fa l'ingegnere minerario, decidono di tenere con loro Shelly per due anni e la iscrivono a una nuova scuola. Katie non lo immaginava, ma quelli con Shelly si rivelano decisamente come gli anni più brutti della sua vita. Considerate che Shelly riesce addirittura a mettere in crisi il rapporto tra la donna e il marito, che finiscono per divorziare. Nel 1971, quando ha 17 anni, Shelly frequenta un'altra scuola, stavolta è ospite presso alcuni zii che vivono in Pennsylvania e conosce un ragazzo di nome Randy Rivardo. Shelly è diventata una bella ragazza, i due si innamorano presto e rimangono insieme per tutto l'anno scolastico. Poi il diploma traccia un bivio lungo il loro percorso. Shelly si ritrova costretta a tornare a Battleground, mentre Randy decide di rimanere in Pennsylvania, ha bisogno di un lavoro che gli permetta di pagare le tasse universitarie. Shelly invece andrà a lavorare con sua nonna e, prima di partire, chiede insistentemente a Randy di accodarsi a lei. Gli dice che l'avrebbe ospitato senza problemi e soprattutto che i suoi parenti gli avrebbero di certo procurato un lavoro. Sua nonna gestiva delle case di cura, suo padre un bullying, dunque Randy avrebbe addirittura potuto scegliere che lavoro fare. In realtà Randy non è proprio entusiasta dei lavori che gli propone Shelly, ma siccome vuole starle vicino, si lascia convincere. Dopo qualche giorno l'idea di lavorare in un bullying non gli pare poi tanto orribile. Così i due ragazzi lasciano la Pennsylvania per raggiungere la casa di Les e Lara a Battleground. Appena arrivano i Watson dicono a Randy che non c'è alcun problema se lo desidera può lavorare al bullying, ma c'è di più. Les, che non aveva mai conosciuto Randy, lo accoglie a braccia aperte per poi chiedergli quando avrebbe sposato sua figlia. Come potrete immaginare lo scopo di Les e Lara è che l'indesiderata Shelly se ne vada al più presto e il matrimonio è il modo migliore per assicurarsi il suo allontanamento. In breve tempo il matrimonio viene organizzato, addirittura Les procura subito un testimone a Randy. Il ragazzo che ha un temperamento a dir poco passivo non si oppone e lascia che le cose facciano il loro corso e dentro un paio di mesi si ritrova sposato con Shelly a febbraio del 1973. Come era accaduto in occasione del matrimonio di Lara e Les, anche in questo caso i parenti dello sposo non si presentano alla funzione. Randy chiaramente ci rimane male e chiede loro spiegazioni per poi scoprire che non erano nemmeno stati avvisati della celebrazione. Shelly non solo non aveva mai spedito gli inviti ai familiari di Les, ma li aveva anche cestinati. Diciamo che Shelly ama buttare le cose degli altri, lo adora e penso che non sia solamente un comportamento dispettoso, ma anche un po' sadico, vuole far soffrire le persone che ha intorno. Les sicuramente non ci è rimasto bene, non è che sia rimasto felice del fatto che i suoi genitori non si sono presentati al matrimonio. In ogni caso dopo il matrimonio la coppia va a vivere in un trailer park o campo caravan, ossia un'area dove per lungo tempo possono essere parcheggiate delle roulotte adibite ad abitazione. Shelly aveva protestato fin dall'inizio e ora che non si può più ribadire ogni giorno a Lara che la odia, si sfoga su Randy. Gli dice che è un fallito, un perdente, perché non riesce a trovarsi un lavoro migliore di quello che gli ha offerto suo padre. Ma nel frattempo quella che viene licenziata in pochi mesi è proprio lei. Shelly infatti stava lavorando nelle varie case di riposo gestite dalla nonna, non si presentava mai in orario e per di più maltrattava gli anziani. Suo padre Les non aveva potuto fare altrimenti, per lui era triste licenziare Shelly, ma riconosceva che la voglia di darsi da fare e l'affidabilità non erano mai state il punto forte di sua figlia. Nel frattempo, mentre Randy continua a lavorare al bullying, Shelly rimane a casa, dove ha tutto il tempo per lamentarsi delle sue condizioni di vita. Dice il padre che abita in una zona pericolosa, ma siccome Les la contraddice, Shelly formula un'altra richiesta. Vuole una macchina nuova, un maggiolino per la precisione. Suo padre, pur di accontentarla, va a Vancouver per comprarle un'automobile, anche se non si tratta di un maggiolino. Tuttavia, non ha acquistato un'auto qualunque, ma un'ottima macchina, una buic decapottabile, rosa pallido e praticamente nuova. E Shelly però è delusa. Si arrabbia tantissimo con lui e quando Randy era in casa dal lavoro, se la prende anche con il marito. Shelly, sopraffatta dalla tristezza e dal disprezzo per quella macchina, la notte stessa tenta il suo figlio. Pare abbia assunto un mix di sonniferi e alcol. Randy, quando se ne accorge, prova a rianimarla senza riuscirci, e quindi chiama Les e Lara per chiedere il loro aiuto. Presi dal panico più totale, tutti insieme portano Shelly in ospedale, ma seguito dei controlli medici scoprono che la ragazza aveva assunto un Tylenol, per intenderci, una sorta di tachipierina. Shelly aveva quindi finto di essere andata in overdose perché non aveva ottenuto la macchina che voleva. Passa altro tempo, ma la sua infelicità di vivere in quel trailer park non diminuisce. Una sera Randy torna a casa e trova la roulotte preda del caos e Shelly con dei graffi in faccia. S'ingiozzando, sua moglie gli spiega che un malvivente era entrato in casa loro, l'aveva aggredita, aveva fatto violenza su di lei. Randy, allarmato, chiama lo sceriffo della contea di Clark e il suocero Les. I due arrivano a pochi minuti l'uno dall'altro. Randy e Les restano fuori mentre lo sceriffo interroga Shelly nella roulotte. Poco dopo, lo sceriffo li raggiunge con una faccia cupa, dicendo che le ferite di Shelly sono autoinflitte. Nessuno si era introdotto nella roulotte. Shelly, colpendosi, voleva dimostrare a Les che vivere lì era davvero pericoloso. Il suo unico desiderio era abitare in una bella villetta con giardino. Nonostante lo sceriffo smentisca la versione di Shelly, Les le crede e si decide a comprare un appartamento a Vancouver per sua figlia e Randy. Come avrete notato, alla fine Shelly ottiene sempre quello che vuole, nonostante i suoi piani siano alquanto goffi, se non pericolosi. Arriviamo al 1975, quando Shelly partorisce la prima figlia, che si chiama Nicky. I parenti di Randy si organizzano per fare visita alla bambina e portare dei regali, ma Shelly non li vuole intorno. Randy questa volta però non la seconda. I suoi parenti conosceranno la sua prima figlia. Shelly allora gli dà filo da torcere. Durante la permanenza dei parenti di Randy si chiude in camera e non esce neanche per salutarli. Randy però decide di non cadere nella sua provocazione, inventa qualche scusa e la giornata trascorre serenamente. Quando i suoi familiari se ne vanno, lasciano alla piccola Nicky diversi giochi, che Shelly si affretta a cestinare. Durante i primi tre mesi di vita di Nicky, Shelly e Randy si trasferiscono di nuovo da Les e Lara. Poi Randy, dopo qualche insistenza, convince Shelly a tornare a casa loro. A questo punto, Shelly chiede a suo padre di versare lo stipendio di Randy sul proprio conto bancario e lui accetta, nonostante non gli sia ben chiaro il motivo della richiesta. Il prossimo passo di Shelly è impedire al marito di dormire in casa, così Randy si ritrova a passare le notti in macchina e a rendersi conto che è arrivato il momento di mollare sua moglie. Remanda tanti cari saluti con la manina e se ne torna in Pensilvegna dai suoi genitori pronto a chiedere il divorzio. Inizialmente Randy prova a stabilire un dialogo con Shelly perché, chiariamo, ci tiene a Nicky e vorrebbe continuare a vederla tramite degli incontri stabiliti, ma come vi sarà facile intuire, ancora una volta Shelly gli si mette di traverso. La donna fa di tutto per impedire a Randy di riabbracciare sua figlia e alla fine lui si arrende, avvilito dall'impossibilità di trovare un accordo. Nicky, quindi, crescerà senza poter coltivare un rapporto con suo padre. Ma non è finita qui. Poco dopo Shelly chiede a dei parenti di tenere la bimba per qualche ora, dato che deve fare delle commissioni. I parenti ovviamente accettano. Shelly accompagna Nicky da loro e poi semplicemente sparisce. Risulta irraggiungibile per giorni, non sanno che fine abbia fatto e allarmati contattano Lara e le raccontano tutto. Lara ha presa la notizia e decide di andare a recuperare la bambina. La porta a casa e se ne prende cura in attesa che Shelly si rifaccia viva. Sapete quanto tempo dovrà trascorrere prima che ciò avvenga? Un anno. Ebbene sì, Shelly torna a prendere Nicky un anno dopo. Non spiega cosa abbia fatto in 12 mesi, non spiega cosa abbia fatto in quei 12 mesi e tuttora nessuno lo sa. Era sparita senza dare spiegazioni e torna senza darne. A questo punto della sua vita, Shelly incontra un altro uomo di nome Danny Long e presto rimane incinta una seconda volta. All'età di 24 anni, il primo giugno del 1978, Shelly convola di nuovo a nozze. Un paio di mesi dopo, nell'agosto del 1978, nasce la sua seconda figlia, Samantha. Nuovo marito, ma stesso copione da mettere in atto. Shelly cerca di rendere la vita impossibile anche a Danny, che però non è così passivo come il suo ex marito. Danny, infatti, non si fa mettere i piedi in testa tanto facilmente, così i due litigano in malo modo, urlano, si lanciano i piatti addosso e alla fine Danny si allontana sempre per non esasperare ancora di più la situazione. Dopo 5 anni, però, anche Danny decide di fare ciao ciao e lasciare Shelly. Ma visto che non c'è due senza tre, nel 1983, a 29 anni, Shelly trova un altro compagno di nome, David Knotek. David ha origini umili, ma è un gran lavoratore, è impiegato in una fabbrica di legname. Shelly lo porta a casa e gli presenta le sue due figlie, Nicky e Samantha. Poco dopo, Shelly inventa un'altra bugia dalle venature tragiche. Racconta di essere andata a un controllo dal dottore, il quale le ha diagnosticato un cancro. Dice a David che probabilmente non riuscirà a superare i 30 anni. David, innamorato perso di Shelly, le crede e si preoccupa delle sue bambine. Se Shelly morirà, chi si prenderà cura di loro? Senza pensarci due volte, David si trasferisce a casa di Shelly e dopo poco tempo, i due convolano a nozze. È il 28 dicembre del 1987. La testimone di nozze di Shelly è una sua amica parrucchiera di nome Kathy Lorino, che vi menziono perché riapparirà in questa storia. Il matrimonio tra Shelly e David pare andare bene. I due sembrano innamorati principalmente perché lui è completamente in balia di Shelly. Lei in realtà lo tartassa, gli ripete che non guadagna abbastanza, che non fa nulla per trovare un secondo lavoro con cui arrotondare, oppure un lavoro più redditizio, che non si impegna perché non ama né lei né le bambine. Shelly è violenta, prende a schiaffi il marito, lo spinge e David non sa proprio come reagire. Pensa che ripagare Shelly con la stessa moneta sia sbagliato, quindi si limita a subire. Nel frattempo, siccome le bambine sono un po' cresciute, Shelly trova opportuno trattare male anche loro. Fino a quel momento si era dipinta come una mamma amorevole e dall'esterno appariva proprio così, ma in realtà trascorreva tutto il giorno a guardare la televisione mangiando cioccolatini, lasciando le bambine chiuse in camera da letto. Come se ciò non sia già abbastanza, ora le tratta pure con violenza, le punisce per qualsiasi cosa, anche la più stupida. Per esempio, se una delle due bimbe usa la sua spazzola, ma non si ferma qui. Shelly nasconde il suo modo di fare abusante dietro la disciplina per rimettere in riga le bambine, adotta dei provvedimenti ben più gravi di qualche sculacciata. È solita svegliarle nel cuore della notte per trascinarle fuori in cortile, anche se sono in pieno inverno. E attenzione, ci troviamo a Washington. Gli inverni sono rigidi. Fa molto freddo. Le figlie, siccome Shelly è imprevedibile, si abituano a dormire coperte da qualche vestito in più. Si mettono magari il doppio pigiama. Col senno di poi, sia Nikki che Samantha sottolineeranno che spesso venivano punite per motivi che neanche loro conoscevano. Mentre frequenta le elementari, quando Nikki gioca pallavolo, è solita indossare dei collant opachi sotto i pantaloncini, proprio per nascondere i lividi e le ferite che le procura sua madre. Una volta Shelly arriva addirittura a frustarla col cavo del telefono. Nikki, tuttavia, non confida a nessuni maltrattamenti subiti. Non vuole essere al centro dell'attenzione e arriva a pensare che, se sua madre la picchia così ferocemente, deve essere anche colpa sua. La settimana prima di Natale, Shelly rinchiude Nikki nella sua camera da letto dicendole che non vale nulla e che la disgusta. Quando arriva il 25 dicembre, però, fa finta di nulla, riempie lei e la sorellina di regali, cucina il pranzo, insomma, di colpo, quello sembra il Natale perfetto. Tuttavia, alla fine della giornata, finisce anche la pacchia. Shelly ritira tutti i regali dati alle bambine dicendo loro che non li meritano perché sono cattive e ingrate. Durante un altro Natale, Shelly regala a Nikki una bambola che la piccola desiderava tanto. Nikki è felicissima ma al termine della giornata, anche in questo caso, Shelly ritira il regalo. La bambola finisce in un armadio. Fortunatamente, non la butta, ma non la butta perché in realtà la bambola è un regalo di Shelly. Shelly butta via solo i regali degli altri, fateci caso. O, comunque, quando doveva lavare i piatti e li buttava, buttava solo i piatti degli altri. Non è che adesso chi abita da sola butta via i servizi di piatti ogni volta che c'è un pranzo o una cena. Nikki, dunque, trova il coraggio di recuperare la bambola per giocarci un po' quando Shelly non è a casa ma deve fare molta attenzione perché se non la riposiziona esattamente nel modo in cui l'aveva sistemata Shelly, quest'ultima se ne sarebbe accorta e l'avrebbe punita. Intanto gli anni passano, le ragazze crescono e Shelly inizia a impedire loro di usare il bagno quando vogliono ma soprattutto quando ne hanno bisogno. Devono prima chiedere il permesso che lei spesso e volentieri nega. Le sorelle sono dunque impossibilitate a lavarsi a ogni occorrenza e si vestono sempre con gli stessi abiti con il risultato che a scuola i compagni le allontanano tacciandole di essere quelle puzzolenti che non si lavano. Shelly in effetti permette a Nikki e a Samantha di lavarsi una volta al mese e rimane sulla porta a fissarle mentre provvedono alla loro igiene. La doccia per Nikki e Samantha è un privilegio che solo Shelly a questo punto può concedere. Le punizioni inflitte sono sempre più dolorose per Nikki la figlia più grande Samantha nella sfortuna ha la consolazione di essere la figlia preferita di Shelly. Infatti durante un'estate la donna decide di chiudere Nikki nella sua camera da letto per ben due mesi non può neanche uscire per andare in bagno i bisogni fisiologici deve espletarli in un secchio che Shelly ha disposto nella sua camera. In futuro Nikki dirà che tutto sommato quei mesi di reclusione in camera sua per lei sono stati splendidi. Shelly infatti aveva tantissimi libri tascabili che non sapeva dove collocare così erano finiti all'interno di alcuni scatoloni riposti nell'armadio. Nikki aveva trascorso tutta la sua prigionia leggendo senza subire le solite punizioni. Provate dunque a immaginare anche solo lontanamente che vita orribile conducesse questa ragazzina per risollevarsi di una situazione del genere. Le punizioni per Nikki erano davvero dure e dolorose anche se dopo avergliele inflitte Shelly la riempiva di attenzioni inducendo la ragazza a sperare che sua mamma potesse essere sempre così amorevole dolce e che non tornasse a farle del male. La verità è che nonostante tutto sia Samantha che Nikki vogliono bene a Shelly. A un certo punto David perde il lavoro e Shelly gli dà una mano affinché ne trovi uno nuovo che però lo porterà a 5 ore di distanza da casa. La soluzione per Shelly è ovvia. David andrà a vivere vicino al posto di lavoro e tornerà soltanto nei weekend. Ovviamente dovrà mandarle tutti i soldi guadagnati. Nel frattempo Shelly ha preso anche un'altra incredibile decisione. Vuole prendersi cura di sua nipote Shane il figlio di suo fratello Paul. Come ricorderete Paul è il più piccolo tra i figli di Sharon e Les quello che probabilmente aveva assistito al letale pestaggio di sua madre. In effetti la vita di Paul è stata tutto fuorché facile è finito spesso in prigione ha avuto parecchi problemi con le sostanze e ha sposato un'alcolizzata. Così quando Paul finisce in carcere per l'ennesima volta Shane si ritrova a vivere letteralmente per strada esattamente come suo padre tanti anni prima. La prima a venire a sapere di questa situazione è Lara la nonna Lara che si offre di accudirlo ma Shelly le dice che può occuparsene lei visto che Shelly ha 13 anni ed è coetaneo di una delle sue figlie. Lara qui mi voglio spiegare accetta perché è convinta che la maternità abbia migliorato Shelly come persona considerando anche che Nick e Samantha quando vanno a trovare la nonna non parlano mai male della mamma. A volte si limitano a dire che è un po' strana ma nulla di più. Lara all'insaputa della brutalità con cui Shelly tratta le figlie accetta che si occupi anche di Shane. Shelly in ogni caso gli organizza una bella cameretta nel seminterrato e Shane si trova bene da lei è un ragazzo allegro nonostante le difficoltà che la vita gli ha riservato. Nick e Samantha si affezionano tanto a lui da considerarlo come un fratello tra l'altro Shelly ha imposto a Shane di chiamarla mamma e di chiamare David papà. Il ragazzo tuttavia ha accettato di buon grado queste etichette visto che finalmente sente di avere una vera famiglia. Siccome a questo punto si sono trasferiti in una casa più grande e dotata di un giardino spazioso Shelly consegna a Shane e alle sue figlie una lista di cose da fare in casa e in giardino. Tutti i giorni Nicky Samantha e Shane devono occuparsi delle faccene domestiche dell'orto e dei numerosi animali soprattutto cani che Shelly decide di prendere ma di non curare. Nel frattempo vi ricordo i ragazzini devono andare anche a scuola studiare fare i compiti. In questo periodo Shane inizia ad avere timore di Shelly anche perché Nicky gli ha confidato come sua madre ha trattato per anni lei e Samantha. Spaventato Shane cerca sempre di portare a termine tutti i compiti elencati sulla lista che Shelly gli consegna ogni mattina. quando non ci riesce ovviamente Shelly lo punisce e in che modo lo punisce? Ebbene la sua stanzetta nel seminterrato inizia a svuotarsi ogni giorno Shelly man mano gli porta via di tutto fino a privarlo anche del cuscino delle coperte e persino del letto Shane si ritrova a dormire nel seminterrato per terra successivamente Shelly impedisce anche a lui di lavarsi con frequenza può fare una doccia ogni due settimane la donna gli porta inoltre via la maggior parte dei vestiti costringendola ad andare a scuola con i soliti abiti così esattamente come era successo con Nicky e Samantha anche Shane viene isolato dai suoi compagni devo però sottolinearvi una cosa Samantha a differenza di Nicky e Shane è una ragazza abbastanza popolare a scuola nonostante le difficoltà a scuola famicizia facilmente insomma forse perché nasconde la sua tristezza dietro all'ironia Samantha è simpatica allegra mentre Nicky è una ragazza più solitaria siccome Nicky e Shane hanno legato particolarmente Shelley decide che li deve punire insieme le sue punizioni sono spesso dolorose altre volte imbarazzanti in diverse occasioni li obbliga a spogliarsi e a ballare nudi un lento davanti a tutta la famiglia compreso David secondo lui questi provvedimenti servono per disciplinare i ragazzini ma è chiaro che Shelley non sappia più cosa inventarsi vi ricordo tra l'altro che David lavora lontano da casa quindi vive la situazione familiare solo nei weekend e non si sogna neanche di mettere in dubbio i metodi di Shelley Nicky e Shane due ragazzini di 14-15 anni sono vittimi di un enorme imbarazzo e a volte mentre ballano nudi scoppiano a piangere mentre Samantha riesce quasi sempre a sfuggire all'era di Shelley per Nicky e Shane i castighi non finiscono qui quando nevica la donna li costringe a spogliarsi anche all'aperto devono andare a sedersi su una collinetta che si innalza dietro la villa e restare lì a gelarsi senza alcun capo addosso per tutto il pomeriggio Shelley li richiama in casa solo quando il sole è ormai calato e poi dice entrambi spero che ora abbiate imparato la lezione loro annuiscono ma non hanno idea del perché le abbia puniti quando Shelley rimane nuovamente incinta David il futuro papà pensa di essere di fronte a un vero e proprio miracolo perché è ancora convinto che Shelley abbia il cancro Shelley siccome David è sempre fuori per lavoro invita a stare da lei una sua carissima amica per ricevere aiuto mentre è in dolce attesa la testimone di nozze Kathy Lorino Kathy come accennato faceva la parrucchiera ma è stata licenziata ogni tanto va ancora a casa dei clienti ma non ha abbastanza soldi per comprare una casa tutta sua è tornata a vivere con sua madre la quale però pretende che la figlia le paghi l'affitto Kathy confortata dalla proposta di Shelley si trasferisce volentieri da lei ma siccome si sente in debito vuole accontentare ogni sua richiesta la prima istruzione che Shelley fornisce a Kathy è che Shane e Nicky sono due ragazzini che necessitano disciplina perché hanno problemi comportamentali insomma che succede in breve tempo Shane e Nicky iniziano a detestare Kathy la quale li rimprovera sempre per cose che non hanno fatto o per totale assurdità adesso i due hanno una specie di seconda madre punitiva come se la prima già non bastasse Kathy però si sente la benvenuta Shelley le ha fatto trovare una stanza tutta per lei e le due amiche passano molto tempo insieme fino a quando nasce Tori la terza figlia di Shelley è il giugno del 1989 e per la nuova arrivata urge una stanza quella in cui se la sistemata Kathy per inciso che finisce a dormire in cantina Tori è nata con una settimana d'anticipo ma è una bambina in salute cianonostante in qualche modo Shelley riesce a convincere tutti che Tori ha i polmoni sottosviluppati e qualche problema cardiaco quando torna a casa per la prima volta con la bambina Shelley la sistema nella sua stanzetta per poi tornare un po' di tempo dopo annunciando che Tori aveva smesso di respirare ma lei era riuscita a rianimarla Shelley insieme a Kathy riporta Tori in ospedale dove la neonata viene tenuta sotto controllo dai medici al momento di rincasare i dottori le danno una culla particolare se la bambina avesse smesso di respirare sarebbe scattato un allarme e indovinate un po' questo allarme scatta ogni singola notte svegliando tutti ma ogni volta che qualcuno accorre nella stanza di Tori trova Shelley che la sta cullando pronta a ripetere oh è tutto a posto l'ho salvata ce l'ho fatta una notte Nikki che non riesce a dormire perché teme di essere svegliata dal solito allarme scende le scale va in camera di Tori e trova Shelley che sta mettendo un cuscino in faccia alla sorellina questa è la prima volta che Shelley viene beccata e reagisce stupita dicendo oh no le stavo mettendo a posto il cuscino in questo periodo Shelley inizia a riversare la sua rabbia sulla cara amica Kathy le ripete che deve mettersi a dieta perché è grassa non fa altro che mangiare subito dopo Shelley rimarca anche il fatto che è lei a pagare il cibo che mangia Kathy arrendevole si fa aiutare da Shelley che le prescrive una dieta dall'alto della sua incompetenza e le dà delle pillole dimagranti anche Kathy a questo punto riceve da Shelley la lista delle faccende da svolgere in casa esattamente come faceva con i figli se Kathy non porta a termine tutti i compiti Shelley le alza le mani addosso la bastona la insulta definendola l'urido maiale la dieta che Kathy è costretta a seguire tra l'altro assomiglia di più a un digiuno ogni tanto Shelley le prepara un frullato a base di cibo scaduto è disgustoso ma Kathy lo beve visto che è l'unica cosa che Shelley le dà ovviamente Kathy inizia a dimagrire ma non contenta Shelley nasconde in camera dell'amica gli involucri dei cioccolatini accusandola di mangiare di notte di nascosto Kathy però con tutta onestà ripete a Shelley che non è vero lei di notte non si alza a mangiare la questione per il momento si conclude così finché Shelley un giorno trova una torta meringata al limone sotto al letto di Kathy anche in questo caso Kathy sostiene di non averla comprata anche perché non ha i soldi né mangiata allora Shelley la convince di una nuova fantasiosa realtà Kathy è chiaramente sonnambula mangia di notte senza rendersene conto in realtà Nicky sa che è stata sua madre a nascondere sia la torta che gli involucri dei cioccolatini sotto il letto di Kathy l'ha vista ma non ha il coraggio di dirlo intanto Kathy si convince di essere sonnambula per davvero un giorno Shelley convince Shane a dire a Kathy che la sorpresa nel bel mezzo della notte se ne stava in camera sua senza vestiti completamente nuda Kathy purtroppo ci crede se ne vergogna sente di essere precipitata in un incubo anche perché le famose pastiglie dimagranti che le da Shelley sono in realtà un mix di medicine e psicofarmaci che non è chiaro come si sia procurata Kathy assumeva l'orazepam che è un farmaco della categoria delle benzodiazepine nitroquake ossia della nitroglicerina atenol che è un farmaco beta bloccante alteis un farmaco usato nel trattamento dell'ipertensione e di alcuni tipi di insufficienza cardiaca cronica e paroxetina che è un antidepressivo Kathy non aveva mai mangiato di nascosto non mentiva e il suo dimagrimento preoccupante lo rendeva evidente insomma aveva l'aspetto di una donna malnutrita oltre al cibo Kathy viene privata pure degli oggetti che le sono più cari come è accaduto ai figli di Shelley la donna man mano le sottrae i suoi dischi country i vestiti le foto fino ad arrivare anche in questo caso a portarle via il letto Kathy è costretta a sbrigare le faccende di casa nuda anche davanti ai figli di Shelley non può lavarsi quando vuole e il più delle volte se Shelley decide di concederle una doccia si limita a lavarla in giardino con la canna dell'acqua oppure la lava con la candeggina questi maltrattamenti si verificano gradualmente nel tempo nel giro di qualche anno Shelley è una diabolica manipolatrice Kathy ha una personalità fragile ma vi ricordo che per un paio d'anni è stata ridotta alla fame e riempita di farmaci pesanti mai prescritti da un medico Shelley decide pure di tagliarle i capelli a un certo punto e se ricordate Kathy era una parrucchiera e andava fiera dei suoi capelli lunghi e ben acconciati tuttavia Kathy non riesce più a protestare è totalmente in balia di Shelley stordita dai farmaci e priva di forze dato che non mangia i figli di Shelley che sono cresciuti ancora quasi si sentono fortunati perché ora la rabbia della madre è tutta focalizzata sulla povera Kathy ciò nonostante sanno che questa situazione è folle ecco perché Shane che oramai ha 17 anni tenta di scappare di casa ci prova qualche volta ma Shelley riesce sempre a trovarlo arriva un'estate in cui decidono di andare in campeggio ma detto che non c'è spazio in macchina per Kathy Shelley stabilisce che l'amica avrebbe dovuto arrangiarsi nel bagagliaio sacrificio che Kathy accetta di fare sicuramente molti di voi si stanno domandando ma questa donna perché non se ne va allora non possiamo sapere cosa passasse per la testa di Kathy probabilmente anche lei era arrivata a una conclusione davvero svilente quelle punizioni se le meritava in un'occasione Shelley picchia Kathy in modo molto violento ma poi vedendo quali sono le sue condizioni le permette di farsi una doccia in bagno Kathy però è arrivata a un punto di non ritorno non ha più forza e così perde l'equilibrio scivola nella doccia e sbatte contro il vetro che va in frantumi si ritrova con il corpo stravolto dalle ferite ma Shelley non vuole portarle in ospedale perché sarebbe evidente che Kathy subisce torture da anni stabilisce di curarla in casa le disinfetta le ferite come può e le benda ora Kathy non riesce neanche più a parlare ha subito dei danni neurologici poco dopo questo evento muore è il 1994 i ragazzi vedono il corpo senza vita che David ordinando a Shane di aiutarlo decide di portare in giardino sì come starete immaginando neanche i resti di Kathy vengono trattati con rispetto amorevolezza e dignità la priorità di Shelley è quella di tutelarsi da ogni accusa così manda i figli in un hotel mentre lei e Dave bruciano il cadavere di Kathy in giardino i ragazzi sanno bene che Kathy è morta ma Shelley dice loro che la donna se n'è andata con il suo fidanzato Tori che ha circa 4 anni è troppo piccola per capire cosa sia successo Samantha nonostante abbia visto con i suoi occhi il corpo senza vita di Kathy si lascia convincere dalla versione di sua madre che è meno dolorosa Nick e Shane invece vorrebbero tanto crederci ma ricordano perfettamente di aver visto Kathy cadavere Shelley a questo punto inizia a diventare paranoica teme che Shane provi di nuovo a scappare e vada a denunciarla lo dice spesso a David e qualche volta fa in modo che Nick e Samantha la sentano ripete Shane lo dirà ci fregherà tutti il ragazzo intuisce chi ha le ore contate e che per sopravvivere gli restano soltanto due scelte raccontare tutto alla polizia sperando di essere creduto oppure scappare Shane valuta principalmente di andarsene perché crede che la polizia possa prenderlo per un pazzoide un bugiardo patologico se andasse male il colloquio con gli agenti sa che non potrebbe mai tornare a casa sperando di sopravvivere Shelley gli avrebbe fatto fare la fine di Kathy Shane scosso da questi pensieri svela anche a Nicky che vorrebbe fuggire il tempo però intanto passa dopo un anno un giorno Shelley attende il ritorno a casa di David per dirgli che ha trovato delle mutandine nella legnaia sono sporche di sangue e appartengono a Tori la piccola della famiglia per Shelley è opera di Shane David sbianca non crede che il ragazzo possa avere un bugio della sorellina e nemmeno Nicky e Samantha lo ritengono possibile ma Shelley insiste e alla fine David va da Shane e lo picchia selvaggiamente dopo questo atroce avvenimento Shane ripete a Nicky che non ce la fa più deve andarsene nel febbraio del 1995 un paio di settimane prima del ventesimo compleanno di Nicky Shane scompare davvero improvvisamente Nicky è tanto tanto preoccupata ma spera con tutta se stessa che Shane sia davvero riuscito a scappare Shelley dice a tutta la famiglia che il ragazzo è partito è andato a fare il pescatore in Alaska a questo punto dato che in casa non ci sono più né Kathy né Shane Nicky ricomincia a essere la vittima preferita di Shelley siccome Shelley ha sperimentato mille modi per punirla si ingegna per concepire un nuovo castigo le impedisce di rientrare in casa la notte Nicky si intrattiene nei boschi vicini all'enorme casa dove si sono trasferiti da poco una fattoria situata a Raymond sempre nello stato di Washington se ne sta al freddo aspettando che Shelley si degni di aprire la porta di casa ogni notte si chiede come evitare questa tortura considerando che Samantha e Tori possono dormire al caldo Nicky ama tanto le sue sorelle ma non può fare a meno di chiedersi come mai sua madre si accanisca contro di lei Shelley non manca di ripetere a Nicky che è spazzatura una stronza una perdente quando finisce gli epiteti con cui insultarla si limita a concludere dicendole nessuno ti amerà mai Nicky nessuno altre volte come se ad agire fosse letteralmente una mamma diversa la far rientrare a casa le prepara un pasto caldo e le ripete quanto la ami questa versione docile di Shelley dura circa cinque giorni poi la donna torna a maltrattare Nicky che ogni volta vede infrante le proprie speranze che la madre possa cambiare in maniera definitiva per evitare di patire sempre il gelo della notte Nicky inizia a nascondere nel pollaio coperte giacche e cappotti in quanto spesso viene sbattuta fuori di casa completamente nuda quindi in tal modo quanto meno potrà coprirsi un po' Nicky si diploma nel 1993 riesce a ottenere una borsa di studio così si iscrive a un college vicino a casa è molto felice che sua madre gliel'abbia permesso considerando che si divertiva a distruggere i suoi compiti o a farle sparire i libri di scuola Nicky frequenta quindi il college ma continua a dormire a casa con Shelley che non rinuncia a sottoporla al solito strazio le fa sparire gli abiti che indossa per andare al college e le fa trovare soltanto quelli usati per lavorare in giardino sporchi e strappati per Nicky è complicato presentarsi a lezione ma ancora non demorde un giorno quando Nicky rientra a casa sua madre le dice che la sua camera da letto non c'è più e che avrebbe dovuto dormire sul pavimento del soggiorno infine Shelley le impedisce di usare la macchina dunque anche di raggiungere il college Nicky è avvilita a questo punto si sente proprio in trappola aveva aspettato a lungo questo momento per potersi allontanare da casa ma neanche la borsa di studio e il college le permettono di prendere le distanze da Shelley e da quella dimora infernale però quando sua madre le urla di rinunciare a quell'inutile college per trovarsi un lavoro in Nicky scatta qualcosa in presenza di David la primogenità esplode è la prima volta che qualcuno dei membri della famiglia ha il coraggio di gridare in faccia a Shelley Nicky si arrabbia tantissimo risponde che non può neanche mettersi alla ricerca di un lavoro senza una macchina e che non si spiega come mai i suoi vestiti buoni siano spariti insomma chi l'avrebbe assunta dopo averla esaminata mentre indossava una tuta a logora con cui era solita sistemare il giardino Shelley come mai prima d'ora si esprime con una voce innocente dicendo a Nicky che se aveva bisogno della macchina bastava dirlo Nicky a questo punto la guarda con disappunto e se ne va via spiazzando sua madre il giorno dopo Shelley si sveglia sul piede di guerra ma Nicky è pronta allo scontro la ragazza esce di casa e si dirige nel pollaio per dare da mangiare agli animali sua madre la raggiunge e prova ad aggredirla ma Nicky si difende e la spintona a questo punto si rende conto di essere abbastanza forte per tenere testa a Shelley quindi la spinge più volte fino a farla cadere le urla di andare a farsi fottere e scappa gambe levate Nicky si rifugia nel bosco dietro casa dove passa la notte al freddo ma soddisfatta finalmente è riuscita a reagire è allarmata certo non sa come sua madre potrebbe vendicarsi ma si sente più forte e Shelley questo l'ha capito infatti il giorno dopo si avvicina a Nicky tentennando e le dici che sua sorella Samantha non la vuole più in casa dopo quello che ha fatto il giorno precedente questa tra l'altro è una balla che sta proprio poco in piedi nel senso che Samantha è felice per Nicky quando vede che è riuscita a difendersi in qualche modo in ogni caso cosa dice Shelley le comunica che lei e David hanno deciso di mandarla in Canada da zia Trish una sorella di David Nicky intuisce che qualcosa non va perché la zia Trish per lei è un'estranea la vista soltanto un paio di volte ma non si mette a fare storie accetta di andarsene sua madre le dà 50 dollari e la accompagna alla stazione degli autobus così Nicky parte lontana da casa Nicky trova il coraggio di parlare con la zia di rivelarle che in famiglia succedono cose brutte per cui la prega di non mandarla via così il soggiorno di Nicky si allunga rimane lì per qualche mese lavora da una manatrice ed è felice in quel periodo nessuno le urla contro nessuno le dice che non vale niente che è una nullità Nicky non vorrebbe mai andarsene dal Canada ma presto Shelley le chiede di tornare tuttavia non vuole riaccoglierla in casa ha deciso che vivrà con David che abita vicino al posto di lavoro e come detto raggiunge la famiglia soltanto nel weekend visto che deve percorrere 5 ore di viaggio soltanto adesso Nicky scopre che David in quei 5 giorni della settimana vive in una tenda si lava in un bagno pubblico e mangia presto le mense che forniscono pasti caldi ai senza tetto Nicky gli dice che è apprezzabile che mandi tutti i soldi a casa proprio tutti tutti ma se vivessi in un piccolo appartamento di certo non commetterebbe un crimine David quindi finalmente si lascia convincere ad affittare un monolocale prossimo al luogo di lavoro quando i due tornano a casa per il fine settimana Shelley si aspetta che Nicky la preghi di farla restare ma non succede Nicky resiste due giorni mentre elabora piani il lunedì riparte con suo padre e poi quando arriva una destinazione scappa una volta lontana riesce in qualche modo a trovare un lavoro part time in una gelateria poi un secondo lavoro come cameriera in un motel Nicky spiega al gestore la sua situazione non ha un posto dove vivere ma ha già un lavoro part time presto avrebbe avuto dei soldi percependola paga settimanalmente il proprietario del motel le permette in effetti di dormire in una roulotte singola sul retro quella è una vera e propria topaia ma Nicky è felice di ciò che è riuscita a realizzare è scappata ha trovato ben due lavori e ha un tetto sopra la testa nessuno ora l'avrebbe più svegliata nel cuore della notte per sbatterla in giardino in pieno inverno ora qual è il punto il punto è che Nicky è sfuggita al controllo di Shelly che furiosa inizia a sfogarsi su Samantha la quale però non intende più coprire sua madre Samantha non ha mai subito gli stessi maltrattamenti di Nicky forse Shelly apprezza che sia una ragazza popolare e non solitaria come la sorella oppure cosa ben più probabile teme che le sue angherie se rivolte alla secondogenita diventino note visto che lei è piena di amici nonostante la vita tremenda orchestrata da Shelly Samantha ha sempre nascosto i propri disagi con l'ironia e la simpatia quando sembrava che qualcosa non andasse aveva la scusa pronta se sua madre le buttava i compiti Samantha diceva che non li aveva fatti se le bruciava i libri di scuola raccontava di averli persi ma ora non vuole più proteggerla quando si ritrova senza quaderni da mostrare all'insegnante Samantha ammette che sua madre le ha distrutti se arriva in ritardo racconta senza alcuna vergogna che sua mamma l'ha obbligata a dormire fuori al freddo gli insegnanti a quel punto le credono e le dicono che possono aiutarla Samantha però non se la sente di denunciare sua madre almeno per ora rinuncia all'aiuto ma anche lei vuole andarsene di casa si vuole allontanare da Shelly una sera il suo fidanzato del liceo la riaccompagna a casa Shelly fa entrare la figlia aspetta che il suo ragazzo se ne vada e poi la sbatte fuori a questo punto Samantha non si ritira nel bosco ma inizia a correre più veloce che può fino ad arrivare a casa del fidanzato sa che Shelly la sta cercando perché anche se la sbatte fuori di casa la tiene sotto controllo Samantha si nasconde per un po' nel garage del fidanzato tiene d'occhio la strada e vede la macchina di sua madre passare più volte ad un certo punto quando è sicura che lei non sia più nei paraggi si precipita la porta d'ingresso e inizia a bussare con molta insistenza il fidanzato e i suoi genitori la accolgono subito in casa Samantha allora copia in lacrime e racconta tutto i suoi interlocutori sono scioccati anche perché il suo fidanzato sapeva insomma che sua madre era un po' particolare che la cacciava di casa che la faceva stare fuori durante la notte ma ovviamente non sapeva tutta la storia infatti il fidanzato e i suoi genitori vogliono chiamare la polizia ma Samantha li prega di non farlo spera soltanto che la aiutino a fuggire così il fidanzato di Samantha si mette in contatto con le sue amiche e organizzano un piano per farla allontanare nel frattempo la ragazza riesce a parlare con Nicky e le chiede se sta bene dove si trova e se può raggiungerla la sorella le spiega che ospiti in un alloggio di fortuna e non può garantirle un tetto sulla testa quindi le consiglia di andare dalla nonna Lara è un piano perfetto perché Shelly non ha più avuto contatti con Lara Samantha quindi la contatta le chiede ospitalità e lei pur non conoscendo la situazione accetta i genitori del fidanzato di Samantha l'accompagnano dalla nonna così anche la secondogenita riesce a sfuggire a Shelly che ora è assalita dalla paranoia non accetta che entrambe le figlie siano scappate teme che libere dal suo controllo possano raccontare tutto ciò che hanno subito da sempre Shelly mettendosi d'impegno riesce a scoprire in quale gelateria lavora Nicky così impone a David di fare delle chiamate minatorie in negozio che però non sortiscono alcun effetto il piano B di Shelly consiste nell'ordinare al marito di distruggere la vetrina del locale lanciandovi contro un mattone nonostante l'atto vandalico eseguito ai loro stessi danni i datori di lavoro non reagiscono hanno capito che Nicky ha le spalle dei genitori fuori di testa e non è colpa della sventurata ragazza tuttavia Nicky ora non è più serena perché sa che sua mamma può raggiungerla allora si mette in contatto con Samantha e si trasferisce da nonna Lara anche lei Samantha comincia a lavorare in una delle case di riposo che gestiva Anna la pestifera mamma di Les ormai passata miglior vita quindi ad amministrarle ora ci sono Les e Lara anche presso le case di riposo Shelly effettua delle chiamate minatorie sebbene Lara avesse già avvisato tutto il personale della situazione Samantha pensa di essere l'unica che forse può gestire sua madre decida di chiamarla e le dice che tornerà da lei solo se Shelly rispetterà alcune condizioni insindacabili 1. deve permetterle di andare al college 2. deve pagarglielo 3. deve pagare anche l'affitto di una stanza per farla alloggiare nel college in cambio Samantha sarebbe rientrata a casa nei weekend e avrebbe messo una pietra sopra ogni vessazione subita Shelly ora si sente davvero persa non può più esercitare alcun controllo e nulle rimane che accettare al termine dell'estate del 1997 Samantha torna a casa e scopre che sua madre non solo ha compilato i documenti per l'iscrizione al college ma li ha anche già consegnati a questo punto dal lunedì al venerdì a casa con Shelly c'è soltanto Tori la più piccola della famiglia anche lei è costretta a indossare gli stessi vestiti per diversi giorni di fila poi sua madre inizia a farle delle richieste a dir poco strane le ordina di spogliarsi le controlla la crescita del seno e lo sviluppo della vulva Shelly di tanto in tanto è violenta con Tori la picchia e soprattutto la umilia esattamente come faceva con Nick e Shane Shelly ora che deve mantenere anche Samantha il college ha bisogno di più soldi quindi si mette alla ricerca di un impiego ebbene il lavoro che trova è quello meno indicato per una persona squilibrata e nervosa come lei l'assistente sociale riuscite a crederci? Shelly nello specifico grazie a Dio non si occupa di bambini ma di donne e uomini anziani con varie difficoltà sul posto di lavoro incontro un volontario di nome Ron Woodworth che sta attraversando un brutto periodo a seguito della morte del padre avvenuta nel 1997 Ron è caduto in depressione e purtroppo poco dopo viene lasciato dal suo compagno con cui aveva una relazione che durava da ben 17 anni come se non bastasse Ron versa in gravi problemi economici tanto che rischia di perdere la propria casa secondo voi chi è la persona tanto tanto magnanima che accorre in suo soccorso e gli offre ospitalità? ebbene sì Shelly purtroppo che va a nozze con le fragilità altrui la donna organizza per Ron la vecchia stanza di Samantha all'inizio la convivenza procede a gonfevele ma poi lo schema delle angherie si ripete Shelly comincia a insultare il suo ospite e gli dice che le fa schifo e che deve stare lontano dalla sua Tori perché ha una cattiva influenza su di lei Ron è la nuova vittima preferita della donna quindi Tori può tirare un sospiro di sollievo ma Tori si affeziona tantissimo a Ron lo considera come uno zio quindi è comunque dispiaciuta Shelly addirittura picchia Ron e poi non gli permette più di mangiare con loro Ron rimane nella sua stanza a consumare il pasto che Shelly gli prepara ogni singola sera ossia un toast la padrona di casa inoltre tanto per cambiare gli somministra delle pillole spiegando a Tori che sono tranquillanti o sonniferi tuttavia da quando Ron assume questi farmaci cambia inevitabilmente diventa passivo non chiacchiera più e soprattutto sottostà ogni cattiveria di Shelly ben presto anche lui viene privato persino del letto e si ritrova a dormire per terra anche lui non può più andare in bagno quando desidera ma deve chiedere il permesso a Shelly che spesso glielo nega la donna gli consegna ma ogni dì una lista di lavori da sbrigare in giardino e in casa e obbliga Ron a svolgerli in mutande sì la storia si ripete Shelly aveva già rivolto queste torture ai figli e all'amica Kathy arriviamo al 2001 quando Shelly viene licenziata perché per fortuna qualcuno si è accorto che non è adatta a fare l'assistente sociale si presentava al lavoro in ritardo e raccontava bugie e tutti i dipendenti non volevano più avere a che fare con lei Nick intanto confida alla nonna Lara che Shelly e David avevano ucciso Kathy la ragazza e la nonna decidono di denunciare il fatto Nick è terrorizzata ma si fa forza e racconta tutto quello che ha passato allo sceriffo quest'ultimo prova a mettersi in contatto con sua sorella Samantha per capire se anche lei avesse qualcosa da dire e soprattutto se le storie combaciassero purtroppo Samantha di nuovo non è ancora pronta a rivelare ciò che sua madre ha fatto a lei a Nicky a Shane e a Kathy le indagini a questo punto non vanno avanti lo sceriffo non prova neanche a convocare Shelly per un interrogatorio insomma nulla si smuove passano un paio d'anni e Ron continua ad abitare a casa di Shelly l'uomo è ormai totalmente soggiogato da lei fa tutto ciò che la padrona di casa gli ordina di fare un giorno Shelly entra in contatto con un uomo molto anziano di nome James McClintock detto Mac un amico di famiglia di Katie Shelly lo descrive come il padre che avrebbe voluto ma non lo porta mai a casa sua l'uomo abita da solo e lei gli fa visita spesso i due solidificano un bel rapporto tanto che Mac chiede più volte a Shelly di trasferirsi da lui Shelly gli risponde che proprio non può però continua ad andarlo a trovare e lo convince a nominarla come sua unica erede Mac al di là di ciò ha bisogno di aiuto e gli serve un assistente che stia con lui 24 ore al giorno quindi Shelly decide di mandare Ron in suo soccorso Ron inizia a occuparsi di Mac gli dà una mano nel prendersi cura dei suoi bisogni personali come ad esempio fare il bagno arriviamo al 9 febbraio del 2002 quando Mac muore è caduto e ha sbattuto la testa di lì a poco Shelly eredita tutto il suo patrimonio compresa la casa tuttavia forse a spingere Mac è stato Ron sotto minaccia di Shelly perché Tori qualche volta sente la madre che tra gli insulti vari accusa Ron di essere un assassino Ron non dice nulla per discolparsi ormai anche lui è un guscio vuoto l'uomo ha perso molto peso Shelly non gli dà abbastanza da mangiare in più gli somministra quelle medicine che lo debilitano il suo destino ricalca quello di Kathy anche se Tori non lo ricorda perché era troppo piccola quando la donna abitava con loro non percepisce che le cose orribili dette e fatte da sua madre rientrano in un copio ormai ben collaudato da anni sempre nel 2002 Nicky si sposa e Tori va al suo matrimonio di nascosto perché Shelly non vuole che mantenga i contatti con la sorella fuggitiva Ron nel frattempo continua a stare a casa di Shelly e pare che a questo punto non voglia proprio andarsene un terribile giorno Shelly lo obbliga a salire sul tetto della casa e a saltare giù per atterrare nel cortile Ron esegue l'ordine e si spacca entrambi i piedi e Shelly ora lo considera ancora più inutile Ron in queste condizioni non può neanche lavorare in giardino e mantenersi occupato tutto il giorno Shelly dunque dice a Tori che l'avrebbe portato nella casa di Mac che lei stessa aveva ereditato ma Ron con i piedi gonfissimi sicuramente rotti mai visitato da un medico come potrà cavarsela da solo? Shelly ripete a Tori di non preoccuparsi Ron è in grado di badare a se stesso e in effetti un giorno Ron scompare e Shelly conferma a Tori di averlo accompagnato a casa di me promette a Tori che sarebbe andata a controllarlo ogni giorno ma non lo fa mai Tori chiaramente ha dei sospetti ma non può immaginare quale fine abbia fatto Ron il suo corpo è molto più vicino in casa loro stipato nel congelatore e ancora una volta tocca a David liberarsene seppellendo il cadavere in giardino quando Samantha finisce il college e ormai vive da sola Shelly manda Tori a trovarla le sorelle però si mettono d'accordo anche con Nicky e riescono a ritrovarsi tutte insieme Tori racconta loro degli abusi che aveva subito una volta rimasta sola con la madre e soprattutto di quelli patiti da Ron e Nicky e Samantha si preoccupano quando Tori spiega che Ron era sparito da un giorno all'altro loro ricordano che fine aveva fatto Kathy ma soprattutto ripensano al fratello acquisito Shane anche se non hanno la prova che Shelly lo abbia ucciso per scoprirlo devono denunciare insieme la madre la polizia questa volta prende la denuncia seriamente le sorelle riportano la stessa versione dei fatti inoltre anche la nonna Lara aveva comunicato la misteriosa scomparsa del nipote Shane e della parrucchiera Kathy ora gli agenti apprendono che anche Ron è sparito senza lasciare traccia Tori dopo aver denunciato la madre torna a casa fa finta di nulla e grazie a dio il giorno seguente polizia e assistenti sociali sono già lì per portarla via Tori li invita per quisire immediatamente la casa perché Shelly si sta già liberando di parecchie prove del crimine gli agenti fermano David il marito di Shelly che confessa tutto immediatamente purtroppo il giovane Shane è morto lo aveva ucciso lui convinto da Shelly che molestasse Tori gli aveva sparato un colpo di pistola alla testa mentre stava dormendo poi i coniugi avevano bruciato il suo corpo esattamente come era avvenuto con Kathy David dice anche di non sapere come fosse morto Ron ma ammette che si era occupato lui di seppellirlo in giardino in attesa di bruciarne il corpo Tori venne affidata ai servizi sociali ma Samantha che ha compiuto 25 anni si propone come sua tutrice così la sorella più piccola va a stare da lei e la più grande Nikki va a trovarle ogni volta che può le tre ragazze continuano a essere molto unite e riusciranno a condurre una vita di successo nonostante i traumi accusati nella loro infanzia e adolescenza finalmente sia David che Shelly vengono arrestati nel 2004 David patteggia e ottiene una scarna pena di 15 anni era complice della moglie in tutto e per tutti aveva ucciso il povero Shane ma dagli interrogatori emerge che nel corso degli anni David veniva totalmente manovrato da Shelly che gli aveva fatto un potente lavaggio del cervello anche durante l'interrogatorio l'uomo si dimostra convinto che la moglie soprannominata la donna più diabolica d'America avesse sempre agito a fin di bene David nel 2016 esce di prigione vi chiederete ora che fine abbia fatto Shelly lei ha optato per l'Alford Lee e cioè l'Alford Lee è un presupposto che interviene quando un imputato sostiene di essere innocente ma è consapevole che ci sono abbastanza prove contro di lui dunque si giunge a un patteggiamento l'imputato accetta di apparire colpevole agli occhi della legge anche se continua a sostenere la propria innocenza grazie all'accordo Shelly ottiene una condanna a 17 anni di reclusione converrete con me che è una pena magra ma sorretta da alcune motivazioni innanzitutto l'autopsia sul corpo di Ron non prova come fosse morto quindi Shelly viene condannata per occultamento di cadavere ma non per omicidio quanto a Mac invece non sussistono prove che sia stato ucciso l'uomo è caduto quindi la sua morte viene valutata come un incidente gli altri due corpi quello di Kathy e quello di Shane non possono essere esaminati perché sono stati bruciati e le ceneri sono state disperse in un fiume in più David ha accettato il patteggiamento ma si è rifiutato di testimoniare contro Shelly in sostanza nonostante la colpevolezza di Shelly sia palese le autorità hanno convenuto che il patteggiamento fosse la via più sicura per riuscire quantomeno a incarcerarla se avessero tenuto un processo normale e Shelly si fosse procurata un bravo avvocato magari sarebbe addirittura stata assolta perché mancavano prove schiaccianti contro di lei Shelly però prima di essere dichiarata colpevole vuole fare un discorso davanti al giudice occasione in cui si dà la zappa sui piedi infatti anche se non ammette le proprie colpe ribadisce che tutto ciò che ha fatto nella sua vita l'ha sempre fatto a fin di bene così alla sua condanna vengono aggiunti altri 5 anni per un totale di 22 oggi questa spietata criminale è libera è stata rilasciata nel novembre del 2022 nonostante le sue figlie abbiano ribadito che continua a essere molto pericolosa nel 2017 le figlie di Shelly hanno contattato lo scrittore Greg Olsen per chiedergli di raccontare la loro storia con un solo obiettivo impedire alla madre di uccidere di nuovo l'autore di bestseller accetta e scrive un libro molto dettagliato intitolato If You Tell che è usato come unica fonte per questo video una vera storia di omicidi segreti di famiglia e sul legame indissolubile della sorellanza alcuni potrebbero chiedersi come una madre o un membro attivo della società possa rivelarsi un'assassinia manipolatrice austera e sadica nel libro If You Tell Greg Olsen suggerisce che Shelly Knotek evidenzia i tipici tratti diagnosticati agli psicopatici l'immagine pubblica che si era costruita era uno scudo dietro il quale abusava segretamente di chi abitava sotto il suo tetto a quanto pare non si sa esattamente dove sia Shelly oggi ma un ex vicino di casa sostiene che non è più in salute quindi trova improbabile che possa dare sfogo alla sua follia omicida e ciò che tutti si augurano io ho finito di parlare in questo video un video lunghissimo che però ho voluto raccontarvi dettagliatamente perché trovo che questa storia sia davvero assurda voglio solamente prendermi questo qualche minuto insomma per fare i complimenti alle figlie di Shelly tutto sommato anzi altro che tutto sommato Nicky Samantha e Tori riescono ad avere una vita davvero soddisfacente trovano dei lavori molto molto ben pagati e vivono tutti in case bellissime cioè tutto sommato la loro vita oggi è davvero davvero bella ma davvero e sono davvero contenta perché spesso le storie di questo tipo non finiscono bene insomma soprattutto se in un'età così delicata l'infanzia e l'adolescenza subisci in modo reiterato tutti i giorni tutti questi abusi tutte queste violenze quindi complimenti davvero a Samantha a Tori e a Nicky perché sono diventate delle donne meravigliose davvero detto questo ragazzi io sono curiosa di sapere cosa ne pensate di questo caso chiaramente Shelly è una sadica incredibile ma sono curiosa di sapere che cosa ne pensate se lo conoscevate già e niente come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti e io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video vi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.